Il Comune di Pordenone ha presentato l'archivio storico online. Il nuovo servizio, consultabile da tutti i cittadini, consente di effettuare una ricerca all'interno di un archivio storico composta da più di 31.000 voci relative a fascicoli, faldoni e registri. Una vera e propria memoria storica della città di Pordenone. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattaruzza. Oggi siamo qui a presentare con orgoglio l'archivio storico della città che è stato messo tutto online. Questo darà la possibilità a studenti, studiosi, cittadini ma anche professionisti e istituzioni di ricostruire l'intero iter non solo di documentazione ma anche delle pratiche che ci sono state in comune in questi anni sin dagli inizi e quindi costituiscono sicuramente una fonte culturale e storica importantissima ma anche costituiscono un livello di efficienza per quello che concerne le pratiche e anche un notevole risparmio economico per chi poi dovrà consultarle. È un'operazione che è partita qualche anno fa e che oggi appunto trova il suo compimento. È un'operazione che vede Pordenone, primo comune in tutta la regione, dotarsi di questo strumento ma anche uno dei principali comuni in tutta Italia. Quindi siamo particolarmente orgogliosi che questo processo si sia concluso e che possa essere messo a disposizione di tutti quello che riteniamo essere la memoria storica della nostra città. Il servizio è disponibile all'interno del sito comune.pordenone.it